Ciao a tutti e benvenuti con un nuovo video di monete di valore. Bene ragazzi, in questo video vi mostro la moneta da un euro della Slovenia che è dedicata a Primoz Trubar. Si tratta di una moneta che trovi in circolazione solo per l'anno 2007 e bisogna fare un po' di attenzione a questa moneta perché è molto sottovalutata e invece c'è qualcosa da dire più del normale. Quindi se la trovi in circolazione ti consiglio di conservarla e adesso ti spiego anche perché. Ma prima di iniziare ricorda di cliccare un bel mi piace e di iscriverti al mio canale per non perdere i prossimi video. Vediamo un po' com'è fatta questa moneta. La ruotiamo, ti faccio vedere che è una normalissima moneta da un euro e ti dicevo che è dell'anno 2007. Il personaggio principale, il personaggio raffigurato, questa moneta è circolata logicamente quindi si fa un po' fatica a vedere bene i rilievi perché in effetti è circolato anche abbastanza. Il personaggio raffigurato è Primoz Trubar. Si tratta di un religioso scrittore e riformatore sloveno. Quindi moneta slovenia, logicamente personaggio sloveno. Quello che troviamo scritto nel giro, va bene, nella parte dorata troviamo la scritta slovenia nella lingua originale. E poi l'anno di coniazione della moneta che nel caso delle monete che trovi in circolazione è solo 2007. Poi nella parte argentata invece troviamo una scritta qui che tradotta significa alzarsi ed esistere e poi sotto il nome del nostro personaggio. Un'altra piccola chicca da controllare è la sigla FI che si trova sotto questa stella. Questa FI cosa significa? Significa che questa moneta è stata coniata dalla zecca della Finlandia. Quindi moneta della Slovenia coniata dalla Finlandia. Perché? Perché le monete da 1 euro non sono mai state coniate dalla Slovenia. E infatti ti dirò dopo da chi vengono coniate queste monete. Per quello che riguarda la moneta che ho tra le mani, perché ti ho detto che è da conservare? Perché è stata coniata solo nel 2007. Quindi per quello che riguarda gli anni successivi dal 2008 in poi questa moneta viene sì coniata, ma attenzione, non è mai stata messa in circolazione. Quindi le monete che sono state coniate dal 2008 in poi sono esclusivamente monete per collezionisti e si trovano quindi nei divisionali di quegli anni. Ad esempio la moneta nel 2008 non è stata coniata per la circolazione, ma è stata coniata e messa nel divisionale, che sarebbe praticamente una sorta di collezione di tutte le monete coniate nel 2008, e viene venduta così ai collezionisti. Quindi l'unica moneta che puoi trovare in circolazione di questo tipo è del 2007. Se trovi altri anni significa che qualcuno ha aperto il divisionale e ha messo in circolazione la moneta per errore. Ti dicevo, quasi 30 milioni di pezzi per questa moneta, ma tu dirai un numero altissimo, non ha senso conservare questa moneta per valore. Allora, al di là che non mi interessa collezionare per valore, perché io sono un collezionista e mi piace collezionare le monete, ti posso dire una cosa. Questa moneta qui è vero, è stata coniata in un numero molto molto alto di pezzi, però sono passati 16 anni da quando questa moneta è stata messa in circolazione, quindi diventa sempre più difficile trovare questa moneta in buone condizioni, e diventa sempre più difficile trovare anche la moneta in fior di conio. Logicamente non è che ti viene data la fior di conio come resto, soprattutto dopo 16 anni. Anche se potrebbe essere tutto è possibile, si può aprire un rotolino che magari un negoziante aveva conservato in magazzino, va a aprire il rotolino che gli era arrivato dalla banca, ed eccola qui che ci viene data una fior di conio di 16 anni fa. Tutto può succedere, ma al di là di questo, ti posso dire che essendo monete che hanno 16 anni, è difficile trovarla in circolazione in ottimo stato. Quindi questo cosa significa? Che queste monete un po' alla volta stanno iniziando ad avere un valore aggiuntivo rispetto a quello nominale, quindi non valgono più solo un euro, ma hanno un valore leggermente più alto, a meno che non siano talmente tanto rovinate, come ad esempio questa, che un collezionista, diciamo, storcerebbe un po' il naso a tenerla in collezione. Eppure io questa l'ho comunque conservata, non l'ho conservata adesso, l'ho conservata tanti anni fa, perché ora è molto molto difficile da trovare in circolazione. Questa moneta possiamo dire che non ha grande valore, forse perché, diciamo che chi colleziona monete colleziona prettamente due euro, sono pochissime le persone che collezionano anche le monete da un euro, quindi questo di conseguenza porta le monete da un euro ad avere delle quotazioni molto più basse rispetto a quelle delle due euro. Probabilmente fosse stata una due euro avrebbe avuto un valore molto più alto. Ma di che valori sto parlando? La moneta circolata in sé siamo abituati a dire che vale sempre il valore nominale. Bene, non è questo il caso, perché nella peggiore delle ipotesi c'è chi comunque quota questa moneta intorno ai due euro, mentre nella migliore delle ipotesi, quindi parliamo di una moneta in fior di conio, questa moneta del 2007 viene venduta tra i 5 e i 6 euro. Quindi, diciamo che anche se non è messa benissimo, a meno che non sia proprio demolita, un 2 euro comunque li vale, anche da circolata. Quindi questo, ragazzi, è uno dei pochi casi in cui le monete circolate hanno un valore leggermente superiore a quello nominale. Quindi moneta da un euro che vale almeno 2, a meno che, ti ripeto, non è proprio stata distrutta. Cosa c'è da dire per quello che riguarda le monete dal 2008 in poi? Allora, ti dicevo che sono state coniate anche per gli altri anni, ma esclusivamente per i collezionisti, esclusivamente per i divisionali. Una piccola particolarità, come ti dicevo prima, la Slovenia non ha coniato mai queste monete da un euro, infatti quella che ho tra le mani della Finlandia, e dal 2008 in poi non è stata solo la Finlandia a coniare questa moneta, ma ci sono state anche la Slovacchia, l'Olanda e per tre anni anche l'Italia. Quindi per il 2016, 2018 e 2019 le monete da un euro di questo tipo, quindi con Primoz, Trubar e la Slovenia, sono state coniate dall'Italia. Detto questo, credo di aver detto tutto su questa moneta, fammi sapere nei commenti se tu hai questa moneta. Se ti dovesse capitare tra le mani, ti consiglio fortemente di conservarla, di metterla da parte. Non dico che domani avrà un valore di chissà quanto, perché comunque parliamo sempre di monete circolate, però comunque se vuoi collezionare le monete da un euro, metti caso che domani ti viene, che ne so, il desiderio di collezionare non solo monete da due euro, come quasi tutti fanno, ma anche quelle da un euro, ricordati che sarà molto più difficile domani trovarla in circolazione, sarai quindi costretto a doverla acquistare. Quindi se ti capita tra le mani questa moneta, conservala, mio consiglio personale. Quindi dicevamo quasi 30 milioni di pezzi coniati, moneta circolata, a meno che non sia proprio distrutta, vale 2 euro, e la moneta in fior di conio viene venduta tra i 5 e i 6 euro. Per le monete del 2008 e poi solo nei divisionali, quindi è inutile dare valori e quotazioni di mercato, perché ci si rifà al valore del divisionale. Non mi resta che ricordarvi di cliccare un bel mi piace, di iscriverti al mio canale per non perdere i prossimi video, e se ti fa piacere iscriviti anche al mio canale Whatsapp, è completamente privato e anonimo, quindi c'è tantissimo, la privacy è al massimo, tu ti iscrivi su Whatsapp al mio canale e nessuno verrà a conoscere mai il tuo numero di telefono, nemmeno io. Non mi resta che augurarti una buona giornata, mi raccomando al mi piace. Ciao!